è accesa? Sì! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog al mare! adesso io sono con la mia gopro session e una panoramica della spiaggia e siccome questa telecamera a forma di cubo è impermeabile andiamo setta acqua bello il fondo vero? chissà quanti pesci ci saranno no cavolo no io se adesso me lo metto al collo bene andiamo no scusate mi era caduta ok questo vlog è finito qua perché volevo vedere come si vedeva l'agua pro quindi al prossimo video ciao